L'anima di questo progetto è sicuramente far capire che all'interno della fortezza di Arezzo c'è l'identità di Arezzo. Un modello in scala 1 a 200 per un'area di 150 x 150 cm ricoperto realisticamente. Questo sarà il plastico della fortezza di Arezzo. Un progetto ideato dall'Associazione Signarezza in collaborazione con il gruppo fermo modellistico Aretino. Il progetto è quello di riuscire a portarlo a termine entro la fine di quest'estate per poterlo esporre poi in maniera definitiva all'interno della fortezza. Magari creando una sala del plastico che potrebbe essere fruita sia dai turisti ma soprattutto anche dai ragazzi e dai bambini della città. immagino anche con qualche percorso didattico che possa avvicinare sempre di più la cittadinanza alle tradizioni e alla storia della città. Si spera che attraverso il plastico, attraverso tutte le altre iniziative che coinvolgeranno la riqualificazione della fortezza si possa andare verso il futuro della città di Arezzo, cioè un futuro in cui la fortezza possa diventare veramente il polo attrattivo sia turistico ma anche lo scrigno che racchiude un po' l'identità per tutti gli aretini. La fortezza inoltre sarà il centro dell'incontro pubblico che si terrà sabato 13 maggio alla Casa dell'Energia. Tutti potranno raccontare le proprie esperienze, dare consigli e decidere insieme in base a un confronto ovviamente costruttivo quale potrebbe essere il futuro gestionare della fortezza. E mi permetto di invitare tutta la cittadinanza alla presentazione della questione aretina che sarà un progetto cinematografico che verrà presentato a Casa dell'Energia sempre in occasione della giornata della fortezza in cui si cercherà di dimostrare come attraverso un prodotto cinematografico si potrebbe raccontare al mondo intero qual è il volto, qual è l'identità e possibilmente qual è il brand della città di Arezzo. Grazie. Grazie.